Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. L'alta pressione continua a sorvolare l'Italia, però non in maniera coriacea come è accaduto fino alla scorsa settimana. Pertanto avremo ancora un po' di nuvolosità al sud sul lato tirrenico mentre arriveranno maggiori schiarite su quello adriatico e al nord. In Abruzzo si prospetta un weekend stabile e soleggiato. Avremo infatti cieli sereni per quasi tutta la giornata. Solo qualche annuvolamento ridosso le monti ma senza fenomeni annessi. Dal punto di vista termico poche variazioni, massime tra 7 e 13 gradi, minime tra 0 e 7 gradi, ventilazione debole di direzione variabile. Un peggioramento arriverà ad inizio settimana ad opera di correnti più freddi e di origine artica, ma di questo ne parleremo meglio nel prossimo aggiornamento. Grazie e arrivederci. Safegate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito. Safegate Pro.com Bai Didi Ca La Ti Meda ывgi verità